Questo palazzo dorato è il palazzo Cricchi. Il palazzo della birra Asai, la birra Asai giapponese, che infatti dovrebbe ricordare un boccale di birra, la schiuma sopra e la birra sotto. Oggi andiamo a vedere lo Skytree. Sì, questa è la torre più alta di Tokyo, ma in realtà è escluso il Burj Khalifa da Dubai, che per noi non è una torre. Esatto, ma è un grattacielo. Esatto, questa è la torre più alta del mondo. Noi abbiamo prenotato il nostro giro per oggi alle 17. Quanto abbiamo pagato i biglietti? 20 euro ciascuno. Ci sono diversi tipi di biglietti? Sì, perché noi abbiamo preso il biglietto che fa la fermata sia a 350 metri sia a 450 metri. Ci sono dei giri dove vai solo a 350, però noi eravamo qua e abbiamo detto, boh, andiamo fino in punta. Per chi se lo stesse chiedendo, la torre di Tokyo è alta 634 metri. Giusto un attimo di coda. E meno male che ne abbiamo già i biglietti. Si va su. Pieno di gente. Quanto ci abbiamo messo a salire? 50 secondi. Abbiamo raggiunto la velocità di 600 metri al minuto. Si sentiva dalle orecchie. Ricordiamoci tutte le scene che aveva fatto a Auckland. Madò, ma quanto è alto? Adesso non fai una piega. Bravo, fiore. Perché c'è un altro vetro sotto, quindi so che se questo si rompe non inizierà a saltare, bimba. Va bene che pesi poco. Madò, è altissimo. È altissimo, sì. Possiamo anche barrare questa ennesima Sky Tower. Fatta. Dove l'avevamo detto? In quella di... Della Nuova Zelanda, Auckland? Sì. Che forse ne avremmo fatte altre due e l'abbiamo fatte. Sydney e Tokyo. Ci dirigiamo verso... Sensoji Temple. Allora, siamo quasi arrivati al Sensoji Temple. Il tempio più antico che c'è qua a Tokyo, uno dei più importanti. Tempio buddista però, quindi dopo lo scintoista dell'altro giorno, qua siamo in un tempio buddista. Questa qui è la famosissima Nakamise Dori. Siamo nel quartiere di Asakusa, non so come si dica. Questa è una via famosissima perché è piena di negozietti, di souvenir, di street food e accompagna proprio i turisti o comunque chi viene a visitare il tempio verso l'ingresso. L'entrata del tempio è contrassegnata dalla famosa Kaminarimon, che significa porta del tuono. E come vedi c'è questa lanterna rossa e nera, molto caratteristica, che è proprio il punto principale dell'entrata, capito? Proprio la caratteristica fondamentale. Molto bello. Andiamo dentro. Ragionavamo sul fatto che assomigliano tantissimo all'architettura dei templi coreani, però secondo noi i templi coreani sono un po' più dettagliati. Tutta la parte del tetto nei templi coreani erano tutte colorate, dettagliate. Questi sono belli ma forse un filo meno. Vediamo se magari a Kyoto saranno diversi. Sì, esatto. Adesso abbiamo visti due, per carità. Questa è una considerazione che stavamo facendo. Una constatazione amichevole. E tra l'altro è gratuito l'ingresso. Intanto c'è la Skytree sullo sfondo. Questa è la zona degli oracoli. Prima vogliamo vedere il contante. Ok. Secondo step. La cucaraccia. Tia. Tu regular e io good. Però abbiamo constatato che regular è migliore di good. Esatto. A me non è che mi abbia fatto sti grandi oracoli. Vabbè. Qua, prima di entrare nel tempio, si fa... La purificazione, il lavaggio. Esatto. Sì. Si fa con le mani. L'abbiamo anche fatto dall'altra parte. Ci si lava le mani. Poi in realtà ci si lava la bocca e forse anche la testa. Però in questo momento è chiuso. Invece là, come vedi, c'è l'incenso. Adesso andiamo a farlo. Te lo devi portare al naso per respirarlo. Adesso tre volte. Bello, perché non possiamo dire che non sia bello. Ma avendone visti di diversi, quello che fa la differenza è l'atmosfera che vivi. E qua, cioè, si sta bene adesso che siamo nei giardini e sono le sei del pomeriggio. Cioè, io non posso immaginare qua a mezzogiorno cosa ci sia. Adesso andiamo a visitare tutta la zona dei giardini. Qua sì che si sta bene. Il prossimo step. Adesso andiamo nel paradiso dei manga e dell'elettronica per la tua gioia. Andiamo ad Akihabara. Non hai portato le carte, vero? Le ho lasciate tutte a casa. I contanti pure. Sì. Meno male. Siamo arrivati in zona. Prima destinazione. Andiamo a vedere i manga? No, andiamo in... Vediamo se riusciamo a entrare, prima di dirlo. Va bene. Andiamo in un altro posto. Esatto, proprio qua volevo andare. Non svegliamo ancora niente. No. Finalmente siamo riusciti a venire in questo posto. Sì, siccome qualcuno ce l'aveva anche chiesto. Siamo in un made cafe. Questi piccoli locali dove ci sono queste cameriere bambole, praticamente. Noi ne abbiamo due che si stanno prendendo cura di noi. Ci hanno spiegato tutto il concept che loro è come se fossero delle paladine della giustizia in questo mondo pieno di guerre. Purtroppo non posso inquadrarle anche perché c'è scritto pure qua nel regolamento che ti danno. Sì, c'è tutto il concept. Questo le quadro. E non fai gli foto. Non possiamo entrare nella loro sfera intima. Non possiamo toccarle, ma non le avrei toccate. Quello dove siamo venuti noi, 4.9, quasi 750 recensioni. Infatti vedo che c'è del feeling. Inche tra l'ultimo arrivato, li ha fatto da bere. Sì, non lo so cosa fanno alcuni. Non lo so. Questo qui continua a colorare con lei che è appena andata via. Fa freddo da bere a tutti. Lui uscirà alcolizzato in poche parole. Loro sorridono e cercano di spillarti i soldi. Qualsiasi cosa la paghi. Foto, da bere, disegnare. Sì, tutto così. Adesso andiamo a mangiare. Stiamo cercando un posto con la carne. Comunque, questo quartiere è fantastico. È super elettrico, pieno di luci, pieno di negozi. Sì, dillo che sei elettrizzato dopo questo made cafe. Sì, sono abbastanza alcolizzato. Basta una birra ormai. Andiamo a mangiare e poi ci facciamo un giro. Finalmente siamo a tavola. Abbiamo preso 200 grammi di Wagyu. Non potevamo non prenderla. Bel Montepulciano. Rombo rosso, nel caso qualcuno lo conoscesse. Vi mostro subito il primo contorno. È arrivata la caprese. Caprese. Questa è una caponata di cui tu ti prenderai le responsabilità. Poco ma sicuro. Eccola qua. Il contorno di patate. Arigato gozai mas. Eccola qua, salsiccia. L'italiano non so dove. Italian sausage. Forse chi ha fatto il packaging di questa salsiccia? L'ho scatolato. Con la senape. Ok, facciamo questo bocconcino. Si presenta bene. Vuoi assaggiarcela? Buona? Ti scioglie in bocca. Abbiamo preso anche un filetto normalissimo. Vediamo. Dimmi se c'è così tanta differenza. Penso di sì. Però comunque quello viene 3003 e la Wagyu 555. Quindi mi aspetto un gran bel filetto. Il colore c'è. La differenza si può notare tranquillamente. Sì. Questo è tutto grasso che la rende burro. Questa incredibile. Siamo al momento della cassa. Ok. No problem. No problem. Arigato gozai mas. Non ci sono solo al piano terra. Ragazzi mi voglio bene. Il microfono è scarico. Io sono ubriaco. Quasi. Ci vediamo domani al mercato. Sempre in un bunker dentro sta ascensore. Con sta luce. Ci vediamo domani al mercato. Ci vediamo domani al mercato. Beyond Gravel.